No vabbè ragazzi, no vabbè, no vabbè, chiudete tutto, ma voi vi state rendendo conto di che doppia operazione di calciomercato uscita e entrata stiamo parlando? Sono qui ovviamente per esprimere in merito il mio puro e semplice parere personale su quello che ha da poco fatto l'Inter. Esce Robin Gosens e subito immediatamente per battere la concorrenza che era spietata, soprattutto in Serie A, se portano a casa Carlos Augusto come sostituto direttamente dal Monza. Lo ribadisco, sono qui per esprimere un mio parere personale su tutto quello che è accaduto. Mi piacerebbe qualora lo faceste anche voi qui sotto nei commenti, date la vostra analisi, il vostro parere, ma se lascerete una marea di mi piace su questo video arriverà in merito anche il parere del buon Fabio. Lasciare mi piace non costa assolutamente nulla, deciderò io se portarlo in base a mi piace che lascerete. Mi farebbe piacere qualora vi iscriveste e attivaste la campanella su questo canale YouTube, uno per restare sempre aggiornati, se lo fate vi arriva sempre la notifica così veramente non vi potete perdere niente, ma anche perché un giorno molto lontano mi piacerebbe arrivare al migliore di iscritti. Io ve la butto là, se mi seguite e non siete ancora iscritti, se me volete bene sia a me che a Fabio, non vi costa niente, fatelo. Per voi sarà un gesto insignificante, ma vi assicuro che per noi fa veramente tanto la differenza. Ringrazio in anticipo chi ancora non lo ha fatto e lo farà. Ovviamente grazie a tutti quelli che si sono già iscritti. Due canali di calcio, un canale extra calcio, lascio tutti i canali in infobox o durante il video compariranno qui. Sì sì, la maglietta ragazzi, per chi è amante ovviamente, se l'avete riconosciuta poi, ne possiamo parlare sul terzo canale YouTube Gaboman Extra, perché insomma è una delle mie passioni per eccellenza, ma qui ci riconcentriamo ovviamente su questa doppia operazione di calcio mercato ragazzi. Per me non so manco come definirla, da Oscar credo che sia anche riduttivo. Questa è l'ennesima ciliegina sulla torta di un calcio mercato comunque intelligente che fanno i nerazzurri. Il duo Marotta-Ausilio colpisce ancora ed è un'analisi in particolare che mi porta a pensare che questa operazione sotto ogni punto di vista ragazzi non ha punti deboli. È perfetta. Robin Gosens è un nuovo calciatore dell'Union Berlin, limati gli ultimi dettagli. È praticamente un nuovo giocatore dell'Union Berlin, tempo che arriva là che fa i visiti, una cosa in altra passerà sicuramente un po' di tempo, qualche ora, qualche giorno. 15 milioni di euro, bonus inclusi, entrano nelle casse dei nerazzurri. Se qualcuno la legge dal punto di vista quanto l'ha pagato l'Inter, Gosens dall'Atalantar, primo luglio 2022, l'ha pagato quasi 30 milioni di euro, 27, quasi 28, quindi non pochissimo se la leggiamo da questo punto di vista. C'è da considerare ovviamente l'ammortamento del calciatore che stagione dopo stagione ovviamente a bilancio, va a registrare situazioni, cose, se la leggi da questo punto di vista dici vabbè comunque l'Inter non lo so se c'è rientrata proprio pelo pelo o se ci ha perso qualcosa dal punto di vista economico, però dobbiamo vederla anche dal punto di vista del fattore campo. Un calciatore che era arrivato per fare veramente bene, no? Visto quello che stava facendo all'Atalanta, uno poteva pensare Gosens veramente adesso all'Inter fa il salto di qualità definitivo, comincerà a dispensare assist e a fare gol come se non ci fossero domani. E invece ha deluso le aspettative, regà, per quanto poi si sia un minimo ripreso ma non è mai stato il Gosens che abbiamo visto all'Atalanta, no? Quindi l'operazione di calciomercato va letta anche da quel punto di vista. 15 milioni di euro per l'attuale Gosens, secondo me non so pochi, Transfer Market lo valuta esattamente 15 milioni di euro, quindi o ci hai perso o ci sei andato pelo pelo paro paro, l'operazione è intelligente. Uno perché, regà, non si era mai trovato, effettivamente lo ribadisco, è perché comincia ad avere 29 anni, ragazzi, 29 anni, ma tutti i porti dentro, adesso vi dico anche per quali cifre, un 24enne, un 24enne che fa lo stesso è identico praticamente, ruolo di Gosens, perché può fare ovviamente anche l'esterno a tutta fascia, oltre che il terzino sinistro. All'occorrenza addirittura Carlos Augusto può essere impiegato anche come difensore centrale, quindi anche il plus della duttilità. Ma 29 per 24, l'operazione di calciomercato che porta Carlos Augusto all'Inter è di 13 milioni di euro più bonus, si dice esattamente, con bonus facilmente raggiungibili, parliamo dei 15, massimo 16 milioni di euro. Cioè chi dice, no, no, sono molti di più, non lo so, non ve lo posso confermare, esce un giocatore 29enne a 15, ne pigli, diciamo, un altro a 15, molto più giovane, svecchi la rosa, e che attualmente, regà, secondo me, non si possono paragonare, perché il Carlos Augusto del Monza dice, ma mo che viene all'Inter se fa il Gosens della situazione, tu intanto hai svecchiato. Quindi tu già un qualcosa che dovevi fare l'hai fatto. Per un calciatore che non arriva per fare il titolare, perché il titolare sarà Di Marco, lui si gioca a un posto da titolare, ma alzi la concorrenza. E per questo che dico, è un'operazione di calciomercato che non ha punti deboli, è intelligentissima anche anticipare la concorrenza, perché lo voleva la Juve. Avevo sentito anche, aveva chiesto informazioni il Milan, si era informato il Napoli, no, in caso di ipotetico eventuale addio di Mario Rui, che aveva fatto qualche storia di troppo, insomma, con il Napoli in fase di rinnovo. anticipi anche la concorrenza, cioè tu togli un giocatore del genere ai diretti concorrenti. Cioè, alla Juventus avrebbe fatto il titolare, avrebbe fatto tutta la differenza del mondo, quindi non la dovete leggere solo come un'operazione, te piglia e te porti a casa Carlos Augusto. Lo togli a squadre importanti. De Serie A e non solo, perché poi c'era anche interesse da parte di altri club. Che può dare Carlos Augusto all'Inter? Innanzitutto arriva come un'alternativa a Di Marco. Per quanto Di Marco, secondo me, attualmente è il top, no? In termini realizzativi, uno dei migliori della Serie A, se non addirittura il migliore in assoluto, no? Basta guardare i fantamilioni, no? A cui lo si prende ogni anno al fantacalcio. Quindi, capite bene, no? È una situazione particolare. Però intanto c'è un'alternativa veramente importante, veramente incredibile. L'anno scorso, Carlos Augusto, ora so curioso da andare a vedere, ma mi pare che ha fatto qualcosa come 6 gol e 5 assist. Adesso, allora, Gosenza l'anno scorso ha fatto 4 gol e 0 assist. Comunque 4 colletti in 49 presenze tra Champions League, Serie A, Coppa Italia e Supercoppa, l'ha fatte. 4 colletti in so pochissimi, eh. Ma ragazzi, Carlos Augusto in 37 partite. 37! E c'è un minutaggio molto più ampio, ovviamente, di Cosenza che ha fatto 49 partite, ma non arriva a 37 di Carlos Augusto. Non so se mi spiego. 6 gol e 5 assist. Ragazzi, stiamo parlando veramente di una differenza abissale. Stesse cifre. Svecchi la rosa. Può impensierire Di Marco? Per me lo può anche impensierire. O comunque, Inzaghi si ritrova due titolari. Sulla stessa fascia. Cioè, lui può mettere, indifferentemente, in Champions League o in campionato l'uno o l'altro, perché secondo me sono intercambiabili. Dice, Carlos Augusto deve dimostrare, no? Di essere quel Carlos Augusto anche all'Inter. Ma c'è la tranquillità per poterlo fare. Non arriva per fare il titolare che dici l'ansia da prestazione. E mo' che faccio, eh? Qualcuno, no? Si lascia, no? Prendere da queste situazioni. Forse chi lo sa, anche lo stesso Cosenza tra un acciacco fisico e una cosa in altra. E poi non ha reso quello che doveva. Però, ragazzi, il gioco della candela è sempre quello. Il gioco va alla candela, sì. Chi non risica non rosica. Per me, veramente, operazione impeccabile. Voto il rapporto qualità-prezzo. Nel frattempo mi si sta scaricando la batteria ma non avete visto assolutamente nulla. Raga, per quanto poi hai pagato quello che vale il calciatore, eh? Ma l'operazione assume, secondo me, il rapporto qualità-prezzo. È una dimensione più importante perché ti liberi di un esubero, tra virgolette. O comunque un calciatore che non ha rispettato le aspettative e per la stessa cifra fai entrare uno più giovane. Vista così, secondo me, è da nove l'operazione di calciomercato. Perché avessero messo dentro nel groppone Carlos Augusto, era un'operazione da sei e mezzo, lo paghi quello che vale. Che glielo vuoi di? Ma messa sotto sto punto di vista, secondo me, sarebbe pure da dieci, se la va a guardare attentamente. Non so se mi sto spiegando, caro utente, che stai seguendo questo contenuto. Per quello che può dare, ragazzi, io do il voto alto. Io do nove. Perché penso, credo fortemente nelle qualità di Carlos Augusto. L'ho visto all'opera con il Monza è ancora, lo ribadisco per l'ennesima volta, giovanissimo, molto giovane. Quindi per me impensierirà anche lo stesso Di Marco. Non credo gli toglierà il posto, ma veramente, regà, Inzaghi potrà scegliere, avrà l'imbarazzo della scelta su quella fascia o comunque al cinquantesimo, devi fa fan tempo per ora, al sessantesimo, leva uno e mette l'altro. Non perdi assolutamente nulla. Complimenti, lo ribadisco, per questa operazione di calciomercato, regà. Bellissima. La guardo dal lato, ovviamente, del mio tifo, da tifoso della Roma. È un qualcosa a cui, secondo me, non si può criticare nulla. La vostra è qui sotto nei commenti. Vi ringrazio per la visione di questo contenuto. Grazie a chi lascerà mi piace, grazie a chi si iscriverà, o comunque grazie a chi ha comunque visto questo video. Ci vediamo alla prossima con un nuovo contenuto. Ciao ragazzi!